Taranto vecchia e le sue perle, il suo immenso patrimonio storico e artistico. Mi trovo davanti alla chiesa di San Domenico, risale al XIV secolo, al 1300, la scalinata però ha una datazione successiva, il 1700. Sono stati fatti dei lavori di ripristino per quanto riguarda la scalinata e vedete l'immagine che viene fuori e a mio avviso è addetta di tantissimi abitanti di Taranto e della città vecchia in particolare da una immagine davvero orrenda. Questo colore, non solo il colore ma proprio l'idea dell'intonaco rappresenta quasi come se fosse un pugno allo stomaco rispetto appunto a tutto il contesto. La decisione ovviamente è stata presa da parte della sovrintendenza per il patrimonio appunto culturale. Però io dico, non metto in dubbio che la sovrintendenza abbia usato dei criteri, dei parametri, però sinceramente vedete una struttura in carparo effettivamente poi cozza terribilmente con una parte intonacata e pittata. Cioè c'è una differenza abissale. Si poteva trovare a mio avviso una diversa tecnica. Preciso e premetto che non sono un tecnico della materia. Quindi qualcuno potrebbe dirmi sei ignorante in materia e lo sono certamente. Bisogna avere l'umiltà delle proprie competenze. Però scusatemi, voglio dire, un'opinione comune dice che è assurdo una tinteggiatura del genere, un trattamento appunto così. Si poteva usare una tecnica che come dire ricordasse, si avvicinasse il più possibile al resto del carparo che caratterizza tutta la chiesa. Sembra una cosa così giusta apposta, una pezza che è stata messa. Quindi voglio dire al di là dei tecnicismi dietro cui si può trincerare tra virgolette la sovrintendenza esiste cari amici della sovrintendenza anche una elasticità mentale che avreste dovuto meglio applicare, una logica più adeguata al contesto appunto della chiesa. Ma vedere del carparo e vedere qui, guardate, tutta questa gettata, passatemi l'espressione di intonaco poi pittato, mi sembra quasi una, non se ne vogliano i tecnici della sovrintendenza, ma una arlecchinata nel senso proprio di due elementi assolutamente contrastanti. Fermo restando che la sovrintendenza tecnicamente ha rispettato le normative inerenti appunto ai rifacimenti, al rispetto dei crismi per il patrimonio, per il ripristino di opere di questo valore. Però esiste anche una logica, è un pugno allo stomaco, stridono terribilmente le due cose. Altro aspetto su cui soffermarci è anche il fatto che è stato messo qui, c'è stata una distesa enorme di asfalto. Certamente momentaneamente mi dicono è stato fatto così per mettere in sicurezza la zona anche in vista dei riti, va bene, ok, però deve essere una cosa estremamente temporanea e momentanea perché bisogna ripristinare le antiche chianche, perché se no veramente abbiamo un altro pugno allo stomaco, abbiamo il carparo, abbiamo l'intonaco pittato, poi abbiamo l'asfalto, non so più che cosa, poi abbiamo pure le strisce gialle qui e poi abbiamo fatto l'abito di arlecchino al completo. Ecco, io da candidato sindaco ho una idea diversa di città, certamente il rispetto dei criteri ovviamente posti dalla sovrintendenza ma deve prevalere comunque una logica di buonsenso armonizzata anche con quello che è il gusto, con quello che è il piacere tra virgolette dei cittadini perché non è possibile che una città intera si sia rizelata dinanzi a questa situazione e la sovrintendenza sia rimasta un po' silente, cioè non è che sono io la mosca bianca che dice una cosa del genere, è l'intera città che si sente, come dire, a dir poco colpita e stupefatta. Poi accanto è stato anche realizzato, questa però è opera comunale, una sorta di terrazza, è stato abbattuto un muro e lì ci può anche stare perché giustamente rende migliore la visuale. Quindi io voglio essere obiettivo, ci sono aspetti positivi e aspetti negativi, questo lo ritengo un aspetto positivo. Ciò che non va e concludo è questa situazione. Consentitemelo un pugno allo stomaco che i tarantini e soprattutto gli abitanti della città vecchia non meritano e non gradiscono. Ecco, sarebbe opportuno che i dirigenti, i funzionari della sovrintendenza magari si interloquissero e si interfacciassero con gli operatori della zona.